ciao ciao a tutti sistemiamo un attimino un pochettino la visuale dovrebbe essere a posto eccoci qua va benissimo ok ciao a tutti questa sera parliamo di instagram e nel particolare andremo a parlare dei follower quindi aspettiamo come al solito che qualcuno si colleghi io faccio il doppio check come di mio rito e se qualcuno arriva mi sente mi dica ok l'audio c'è funziona così possiamo partire questa sera si parla di instagram ok ragazzi ovviamente se stai guardando in differita porta un pochettino più avanti così perlomeno prendi solo i contenuti ciao susi ciao mi confermi che si sente tutto quanto perfetto aspettiamo qualche secondo che si connetta la gente metto ancora un reminder live now ok ci siete ragazzi ok metto solo un reminder e poi cominciamo a parlare di instagram e soprattutto cominciamo a parlare del perché non dovete avere follower ok perfetto ragazzi benissimo aspettiamo ancora qualche secondino che si connetta qualcuno dovreste avere ricevuto la mia mail oggi se non avete ricevuto ancora la mia mail dovete controllare di essere scritti alla mia mail list per farlo andate su marcodoria.com risorse gratuite e lì troverete nella basta che vi iscrivete troverete il video corso gratuito smette di fare le arts e potete così essere nella mia newsletter ok ragazzi aspetto ancora un qualche secondo ma oggi si parla di instagram e soprattutto rimanete connessi perché questa sera lanciamo instastart il nostro corso che vi permetterà di fare ads e sì ads proprio no però mi permetterà di monetizzare instagram ok ciao fabio fabio scalicchis ciao ciao da dove sei dall'austria monetizzare instagram ok ragazzi in cinque passi ovviamente come nostra routine ciao gino ciao aspettiamo questi colleghi ancora qualcuno mi confermate comunque che si sente bene ok non dovete avere follower su instagram stasera vi parlerò di questo sarà un discorso interessante aspetto anche luca che si connette perché insieme se mi seguite fino alla fine ciao repo mi seguirete fino alla fine vi assicuro che rimanete contenti perché quando vedrete quanto sarà bello instastart ne rimarrete veramente soddisfatti ciao mirco ciao a tutti quanti ok ragazzi parliamo allora partiamo subito perché insbruck bene bene fa fresco lassù altro giorno ero in svizzera l'altro ieri faceva un caldo atroce quando siamo noi siamo abituati che quando andiamo al nord siamo convinti che si geli in realtà si si squagliava ok ragazzi allora perché non bisogna avere follower in in realtà ovviamente è un titolo provocatorio non dovete avere follower non dovete avere follower nel senso che non dovete avere follower che non servono un cazzo questo perché nella maggior parte dei corsi facebook che fate che avete fatto che farete scusate instagram sono talmente drogato da facebook che continuo a ripetere facebook nei corsi instagram che fate che farete o che avete fatto e viene riportata la sempre la seguente dicitura fare follower ok in realtà però quello che vi insegnano non è a fare follower in maniera organica in maniera sana ma vi insegnano ciao michele michele elettrico vi insegnano a fare follower in maniera pompata ok cosa significa pompare follower significa crearsi una rete di persona di persone che si attesta il fatto che la pagina ha dei follower ma in realtà fa ridere poiché queste persone non danno engagement sapete come la penso io piccoli database ma che rispondono bene questo è il ciao caro lu piccoli database che rispondono bene questo è molto importante quindi in realtà avere follower oggi non ti serve a un razzo perché perché se questi follower non ti danno una risposta genuina quindi tu non riesci a monetizzare questi follower automaticamente praticamente come se tu avessi centomila ragazze che ti che ti che ti salutano ma nessuna che esce con te commettiamola così ed è la stessa cosa in realtà noi usiamo instagram soltanto per monetizzarlo perché noi guardiamo in social se seguite me sapete che i social li guardiamo dal profilo business quindi soltanto per spremere la monetizzazione noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo profitto dei social quindi la prima regola è non fare follower dobbiamo creare engagement ok l'engagement è creato da una serie di situazioni che si possono impostare su instagram instagram è uno schema ha delle regole ben precise e segue l'algoritmo che automaticamente ti dà una serie di indicazioni ovviamente ti dà dei parametri che non sono conosciuti al cento per cento però noi che ci lavoriamo sopra sugli algoritmi possiamo capire quello che funziona quello che non funziona gli algoritmi sono segreti quindi come per facebook con instagram la stessa cosa inutile avere milioni di follower per poi non riuscire a monetizzare un cazzo di niente quindi in realtà ragazzi quello che bisogna fare con instagram è cancellarsi dalla testa tutto quello che ci hanno detto fino ad oggi non bisogna pompare i follower ma in realtà quello che bisogna fare è costruire un engagement e fare flipping come si fa da tutte le altre parti per farlo però instagram vive di una vita propria non è come con facebook quindi in realtà se tu ragioni con la testa di facebook su instagram sbagli se tu ragioni con la testa di quello che pubblica foto su instagram sbagli devi proprio cancellare dalla tua testa tutto questo e ragionare in un'ottica diversa ovvero in un'ottica di monetizzazione di instagram quindi vuol dire che come al solito devi far lavorare l'algoritmo a tuo favore ovviamente tu devi seguire una strategia che si basa sul comportamento delle persone quindi con questo con questa scia cioè seguendo questa scia chiaramente poi riuscirai a trarre profitto dai social e soprattutto in questo caso da instagram perché le persone vanno su instagram solo a pubblicare foto perché pensano erroneamente che instagram sia un luogo dove far vedere le proprie foto gli amici non è così non è assolutamente questo ok instagram è il luogo dove le immagini possono portarti profitto ciao diana ciao ciao diana tu lo usi instagram quindi ragazzi instagram dovete dimenticarlo per quello che ve l'hanno sempre detto ecco qua luca il creatore del corso è arrivato adesso dovete dimenticarvi instagram per come l'avete sempre visto ma dovete cominciare a vederlo sotto la forma della monetizzazione dei follower quindi dobbiamo creare un un ecosistema ciao luca un ecosistema per cui questi follower ci aiutano nella monetizzazione quindi noi dobbiamo ricreare queste queste situazioni per far sì che questi follower siano monetizzabili dobbiamo cancellare dalla testa tutto quello che abbiamo capito di instagram fino adesso instagram non è foto instagram è creare delle connessioni monetizzabili tramite immagini tutto quello che vi hanno detto nei corsi che vi diranno in corsi sbagliati cioè di pompare i follower è sbagliato ok i follower devono sono una scienza ragazzi ecco la monetizzazione su instagram è una scienza ok io non sono un grande esperto di instagram lo sapete no però luca che qua in diretta con noi fa appunto questo questo mestiere perché non l'ho fatto io io sono specializzato in facebook e rimango specializzato in facebook ok vi posso dire che l'aspetto psicologico comportamentale delle persone sui criteri di acquisto è il medesimo quindi questo vuol dire che le persone si comportano nella stessa maniera ma essendo completamente diverso l'ambiente quindi instagram facebook cambiano una serie di circostanze una serie di fattori quindi bisogna fare cose in maniera diversa anche se poi il comportamento delle persone è il medesimo però cambia perché cambia la piattaforma quindi bisogna sapere come comportarsi per ottenere la massima monetizzazione dei follower come al solito quando abbiamo deciso di creare instastart ci siamo messi lì con luca abbiamo detto ok prendiamo il nostro classico cubo di marmo e buttiamo via togliamo via tutto quello che non serve lasciamo l'essenziale soltanto quello che serve ovviamente quello che serve noi non la vediamo come il ragazzino che va su instagram per fare l'influenza perché tutti voi che state ascoltando questa diretta e chi la guarderà in differita sono sicuro che di fare l'influenza non ne può fregare di meno ma vuole fare cicci quindi vuole fare soldi vuole fare monetizzazione e quindi bisogna guardare instagram sotto un altro punto di vista se la andiamo a guardare dal punto di vista della celebrità di turno automaticamente non stai capendo niente di come funziona quindi avere pompare follower per poi non avere engagement ok quindi abbiamo creato un corso molto pratico che si chiama instastart che ti permetterà di capire come monetizzare il tuo profilo instagram aziendale ovviamente in soli cinque passi ok abbiamo ovviamente contratto le informazioni abbiamo messo queste informazioni in cinque passi sarà un webinar che si terrà il 5 giugno e che un martedì alle ore 21 e ragazzi che hanno già comprato gli early adopter cioè ovvero i ragazzi che mi seguono da prima hanno comprato un pacchetto con questi corsi sono già dentro il gruppo e da stasera partirà il lancio e comincerà luca a mettere qualche contenuto quindi fino a martedì teniamo aperto il carrello di vendita ma da oggi luca comincerà a mettere qualche contenuto sul gruppo provvisorio e ora vi scrivo il link ok intanto se avete qualche domanda ragazzi scrivete se avete qualche domanda su instagram scrivete perché c'è luca connesso tanto ci sono qua io faccio la tramite e intanto io vi metto su il link scrivete ragazzi intanto mettete qualche like brutti tirchi che non siete altro ogni volta vi devo pregare per mettere qualche non sapete che invece io voglio pompare la diretta quindi ho bisogno dei vostri like dei vostri commenti dei vostri cuoricini guarda luca che bravo come spara c'è anche il mio osteopato il mio osteopato ovviamente ok siamo live vi do il link perfetto a posto con la gdpr quindi non venite a dirmi questo consenso perché vengo a casa vostra e il consenso ve lo tolgo dalle mani proprio ok siamo qua ci siamo ragazzi pronti nella diretta vi butto il link potete già comprare questa sera potete già comprare subito questa sera instastart mi raccomando prendetelo in promo perché poi il prezzo ovviamente adesso non riuscirete a cioè lo comprate adesso e riuscite a registrare quindi a far parte anche delle sessioni di domande risposte e quant'altro però poi se fate passare il prezzo diventa il triplo e non potrete partecipare ok qua vi metto il link e poi tanto vi arriverà sicuramente qualche mia mail pressante tipo tutti i giorni per una settimana parliamo di instagram se prendete se comprate oggi avrete la possibilità di aderire subito al gruppo ok per entrare nel gruppo dovete acquistare poi dare la mail e da lì vi facciamo inserire vi inseriamo nel gruppo se avete qualche domanda ragazzi scrivetela pure altrimenti accattatevi subito instastart e entrate nel gruppo provvisorio dove c'è già luca che è caldo che metterà su qualche contenuto fino a martedì martedì invece ci sarà la registrazione del corso vero e proprio come al solito svolto in una sessione di ciao pato svolto in una sessione unica serale quindi staremo sicuramente più di quello che di solito si sta quindi saremo più di un'ora sicuramente martedì quindi prendetevi il vostro tempo parleremo instagram ma parleremo soprattutto di monetizzazione di instagram ragazzi quello per cui abbiamo lavorato per creare questo questo corso è la monetizzazione dei follower quindi toglietevi dalla testa tutto quello che avete capito fino adesso perché probabilmente non avete capito un cavolo perché i follower non servono a niente quindi non dovete avere follower voi dovete ricreare certi parametri per fare sì che l'algoritmo vi aiuti con la vostra strategia ovviamente nella monetizzazione di instagram quindi andremo a vedere sia che voi già abbiate un profilo sia che dovete ripartire da zero sia che non avete ancora niente andremo a vedere passo per passo cosa fare e in più andremo a vedere ovviamente c'è Luca che ha scritto andremo a vedere ovviamente come dobbiamo come dovremo sviluppare il profilo il profilo instagram messo così per pubblicare qualche foto non funzionerà mai il profilo instagram deve essere studiato in aiuto dell'algoritmo instagram per la monetizzazione ok quindi se tu pensi di usare instagram solo per buttarci sopra delle foto ti posso dire che non ti porterà mai nulla ok poi Luca sarà più preciso ve lo spiegherà nel veramente nel dettaglio però quello che vi posso dire oggi è che i follower non servono quello che dovete avere o ma al solito è una strategia che vi porti monetizzazione del follower questo di questa cosa non ne parla nessuno infatti non me ne capacito però lo sapete se seguite le mie dirette se seguite se comprate i miei corsi sapete che io sono monetizzazione nel senso pensiamo solo a monetizzare perché altrimenti non serve a niente non voglio sentire discorsi di etica del cavolo l'etica è quando monetizzi ok monetizzare è etico vendere è etico ok vendere ovviamente bisogna essere onesti però comunque presentare un corso per farvi vedere come si pompano i follower che poi non mi monetizzano niente sarebbe stato per noi stupido ok per noi non serve a niente questo a noi serve che prendiate le indicazioni che ci sono in questo corso vi dico che c'è soltanto un tips che ha messo Luca un tip sarebbe un suggerimento un trucchetto avanzato che solo questo trucchetto avanzato che troverete in instastart vale molto più di tutto il corso cioè soltanto quella procedura che vi dirà che io ho visto tra l'altro che ho comunque potuto vedere tutto quanto perché tra l'altro Luca sta facendo degli esperimenti in questo periodo proprio per farvi vedere i risultati passo passo c'è un suggerimento un tip detto in gergo che solo con questo tip ragazzi vale vi comprate non solo questo corso ma comprate anche molti altri e devo dire che comunque sì sono molto contento solo già soltanto per questa cosa qua quando l'abbiamo detto Luca mi fa ma cavoli dobbiamo metterla in questo corso oppure facciamo un corso avanzato ho detto no mettiamola differenziamoci questa sarà la nostra differenza ok quindi noi abbiamo fatto questo per voi abbiamo creato questo corso che parla di monetizzazione quindi ok se avete qualche domanda ragazzi approfittatene se no filate a comprare vi ricordo che se non comprate in questo tempo poi il prezzo aumenta e poi alla fine toglierò anche instastart dal commercio ok instastart non ci sarà più sarà nella mia academy la mia academy è cioè Biasi vai a comprare sto corso dai che sei ancora lì hai comprato il giumbotto di pelle e non hai ancora comprato il nostro corso su e sarà tutto nella mia academy l'academy costerà 1000 euro e dentro troverete tutti i corsi ovviamente con molti altri però non venderò più corsi singoli questi corsi singoli li ho venduti adesso perché per farmi conoscere a voi per entrare in questo sì esatto in corso Francia per entrare e per farmi per farvi vedere anche la qualità dei corsi come sono fatti sono strutturati per funzionare non ci voglio mettere i pluri teoria che non serva a niente io vi voglio fare formazione di cose che servono quindi butto lì la mia esperienza o quella di altre persone e parliamo in maniera pratica e funzionale quindi questo è questo sarà instastart vi insegneremo non avere follower come vi ho detto in questo video non dovete avere follower quello che dovete avere è una strategia di monetizzazione del follower questo sarà tutto il su quello che si si svolgerà il corso ok come al solito se comprate adesso e fate richiesta avrete comprese nel prezzo anche il dvd da collezione più il materiale cartaceo che sono quelle cose lì ok vi arriveranno a casa fisicamente quindi potrete avere sia il dvd da collezione da poter riutilizzare quando vorrete in tutti i momenti comunque da avere lì esposti sono bellissime soprattutto perché c'è la nostra faccia in più i libricini che sono molto comodi per andare a riprendersi qualche concetto velocemente senza rientrare magari nel digitale e ovviamente oltre alla possibilità di partecipare live alla registrazione del corso quindi a interagire le domande risposte avrete anche la possibilità di avere la parte digitale per sempre c'è nella vostra area riservata sul mio sito ok ciao repo tu tanto sei già dentro ci vediamo nel gruppo provvisorio mi raccomando quando acquistate perché sto vedendo che qualcuno sta acquistando fate richiesta al gruppo è molto importante perché molte persone cioè mi scappano le persone non guardano la thank you page dove c'è un tasto grosso così con scritto entra in sto gruppo ok perché sennò poi non riusciamo a farvi entrare mi è capitato di dover seguire delle persone via mail e via facebook perché non hanno schiacciato quel bottone quindi leggete mi raccomando le thank you page anche perché sennò vi schiaffo un upsell la prossima volta invece di mettervi semplicemente questo marco mi fido di te odio strisciato senza sapere non lo so controllo controllo ciao ciao antonio ciao antonio stiamo parlando del corso instagram che abbiamo appena lanciato trovi la pagina di acquisto nei commenti qua in alto istastart è il corso che ti insegna a monetizzare i follower ok cosa significa monetizzare i follower significa che creeremo una strategia per tirare fuori del denaro da instagram non faremo non è un corso che ti insegna a diventare una celebrità ok non parliamo poi dice di corsi e celebrità perché c'ho il dente avvelenato in sti giorni proprio per questa cosa non faccio nomi simona stai tranquilla controlliamo e se una botte di ferro come dice luca vai tranquilla che non sfugge nulla qua e cosa voglio dire esatto non voglio assolutamente parlare fare nomi ma sono incazzato nero proprio con dei corsi che sono usciti su instagram perché non mi piace come 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 sta certe persone stanno prendendo la formazione ragazzi fare formazione è molto difficile perché devi andare a prendere veramente cioè devi essere esperto di una cosa e insegnarla bene quindi devi cercare di far avere risultati le persone che ti seguono oltre a essere piacevole ascoltarti devi anche ottenere risultati e devi averli ottenuti tu io non mi fido ok di chi va in giro con gli elicotteri e poi alla fine non frega le persone questo questo è quanto quindi noi abbiamo creato un corso molto pratico un corso che ti insegna a monetizzare ok quindi plata quindi andiamo lì soltanto per fare quel tipo di di lavoro non voglio non vi voglio far diventare influencer di niente non siamo lì per avere follower e basta noi siamo lì per avere engagement monetizzabile ok questo è quello che non dice nessuno dei corsi ma è quello che dovete fare va bene mi raccomando se siete in diretta andate a catateville entrate nel gruppo di la che luca comincerà a far vedere già qualcosa che sta facendo qualcosa da seguire su instagram andiamo avanti una settimana con piccoli le piccole piccoli tips dei piccoli suggerimenti fino ad arrivare alla registrazione la registrazione sarà martedì 5 giugno alle ore 21 ok tra una settimana quindi abbiamo questa settimana per per il lancio dove vi arriveranno qualche mail vi spammerò tra l'altro scusatevi ma oggi mi è partito un doppio un doppio messaggio capita in realtà non è colpa neanche mia perché quella merda di chat fuel che gestisce i bot ha cambiato la delivery e quindi in sostanza io ho creato il messaggio l'ho inviato è sparito tutto dopo 5 minuti che non vedevo niente l'ho rifatto e alla fine ho scoperto che niente è una delivery di 20 minuti oramai cioè tu invi e poi lui lo invia quando gli pare a lui quindi in realtà scusatemi è successo perché questa maledetta gdpr che non fa altro che rompere i coglioni ha rotto i coglioni anche oggi mi ha fatto sbagliare comunque non vi preoccupate non vi preoccupate neanche acquistare perché il mio sito è stato messo a posto ho la doppia spunta sui form adesso nessuno mi può rompere più i coglioni questa gdpr e sono un uomo felice con la sua dgpr in tasca ce l'ho proprio qui ok quindi detto questo ragazzi ci vediamo in questi giorni continueremo a parlare di instagram oggi è stato il piccolo lancio che abbiamo fatto sapete che non mi va neanche di di fare mega mega lanci come si dice planetari e intergalattici ma mi basta parlare fare contenuto come al solito e poi il suo piglia se lo piglia chi non se lo piglia ragazzi continuate voi la frase va bene ragazzi mi raccomando monetizzare sempre ciao ciao a domani seguite le mail compratevi il corso e a instagram avanti tutta